Hai affrontato gli stessi scenari come qualsiasi tinger regolare e ora che sei nel tuo 20s stai pensando di perseguire la tua passione come fotografo. Ma cosa succederà quando tua madre ti chiederà di trasferirti in un'altra città fuori dalla una ragazza media di sguardo con una vita media non ha mai avuto problemi con le persone o la vita generale avete notato una tristezza nella sua voce e hai preso un appunto mentale di chiedere la tua mamma su di esso una volta che si va a casa hai fatto la metà del disimballaggio fatto la metà del disimballaggio prima di venire nuovamente dentro. Areale balla Lei aveva quasi chiuso la porta di nuovo quando hai visto la pusta presso lo zerbino si raccolse venuta dentro e gli è dimenticato voglio dire voglio davvero unirvi a noi anche. Molle odio 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 Sono sicuro, Alex, sono letteralmente forniti A livello dell'Anca per tutto il tempo Tutto ha pianto e cambiato Quanto mia madre mi ha chiesto di passare a questo Dove sei desasperato Sei stato a spendere così tanto tempo In ambienti chiusi Disposto ad ottenere il crocifiggere presto Da parte delle autorità di città Che cosa c'è in lui che mi fa venire orgoglia Di versare tutte le mie viscere Avrei dovuto morso la lingua E da due pochi minuti fa bambino Il ragazzo mi spingono oggi queste ultime settimane Ma fa il tuo padre e lo fa ancora così Fai una ragazza media di sguardo? 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 Fai una ragazza media di sguardo?